Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qua allo stadio di Banco Medigliora dove tra qualche istante più precisamente alle ore 21 quarto svolgerà la partita del raggruppamento Malcantone contro FC Chiasso ovviamente stiamo aspettando ancora che arriva la troupe di Swiss World TV per iniziare appunto questa partita probabilmente ci metteremo la come sempre in mezzo alla strada in modo tale da essere sollevati per fare la diretta e riprenderemo quello che riusciremo a riprendere come vedete questa qua è la buvette diciamo così la zona degli spogliatoi della Cilema e adesso aspettiamo solo che arrivano gli altri membri della troupe di Swiss World TV e direi che ci rivediamo dopo intanto che andiamo in postazione qui c'è il nostro Axel Paderni davanti ma sei col te vedono lì si si vede si vede ciao Ale si vede benissimo si ciao Ale guarda tanti sono le luci del campo eccoci qua stiamo arrivando abbiamo aggiunto una bella pizza alla Selvatica ristorante buona buona si confermo e adesso stiamo arrivando allo stadio una cosa che ci tengo a farvi vedere ragazzi è sicuramente come abbiamo piazzato la telecamera ma adesso questo lo vedrete una volta che saremo là procediamo tra poco bene siamo arrivati allora nella nostra postazione qui dello stadio di banco e una cosa che voglio farvi vedere ragazzi guardate qua cioè ma la telecamera perché sta fluttuando ragazzi perché tre piedi stanno fluttuando non capisco sta cosa vabbè l'importante è che è fissata qui alla ringhiera praticamente e con un piedino giù vabbè questa è la telecamera e qui c'è il nostro Alessandro Chinelli la postazione di Swiss World TV è questa per ora in piedi ma fra un posto l'ha seduto per ora in piedi ma fra un posto l'ha seduto esattamente la visuale comunque sarà perfetta ragazzi dovete vederla su Swiss World TV mi raccomando recuperate la diretta e ci rivediamo dopo con il video procediamo ma prima dell'inizio della partita una cosa che non ho fatto ragazzi è leggevi la formazione delle due squadre partendo dall'FC Chiasso numero 1 Ugi Alessandro numero 2 Schena Aleandro numero 3 Torino Andrea 4 Nobili Federico 5 Sartori Flavio 6 Leonati Francesco 7 Silvestro Samuele 8 Magni Luca 9 Pesaturo Lorenzo il capitano 10 Martufi Francesco numero 11 Monti Romeo a disposizione numero 12 Simonetti Federico numero 13 Napoli Nicolas numero 14 Arulana Tan Abinash numero 15 Celai David numero 16 Merzocque El Abib e numero 17 Siberio Davide l'allenatore il signor Riccardo Betonte mentre per la formazione del raggruppamento Malcantone abbiamo numero 1 Cristiano Elia numero 2 Signorini Jamal capitano numero 3 Piras Giovanni numero 4 Giuffre Manuel numero 6 Carrara Kevin numero 9 Ro Roscia Paolo numero 10 Cavni John numero 11 Rocca Alex numero 13 Mazzitelli Riccardo 14 Iacolo Giuseppe 17 Dallariva Luca a disposizione numero 5 De Vincenti Davide numero 7 Tramezzani Paride numero 8 Masullo Maximilien numero 12 Ventre Vittorio numero 16 Disisto Davide numero 18 Galeazzi Mathieu il numero 19 Caravello Riccardo l'allenatore il signor Giuseppe Rocca Allora il punteggio praticamente di 2 a 1 qua mi sembra a favore sì del raggruppamento Malcantone contro il Cias sempre qua il nostro Alessandro Chinelli sì lo so che ho una voce puntata verso di lui non so come sta fatto però sto registrando col telefono di Alessandro Chinelli vabbè noi diciamo che proseguiamo questa partita e andiamo avanti qui sempre dal campo di Panko e procediamo finita allora la partita con il punteggio di 2 a 1 praticamente per il Malcantone quindi vittoria per la mia squadra praticamente ragazzi il mio comune di Malcantone ringraziamo un nos Alessandro Chinelli dal Chi alla postazione della regia grazie Ale e adesso le interviste ovviamente il Malcantone vittorioso si avvicina alla postazione della regia e festeggia la grande il Malcantone bravissimi complimenti davvero al Malcantone detto questo da Alessandro Chinelli e da Axia Padelli è tutto alla prossima ciao ciao